Ma puoi anche allontanarti eh, basta che stai in una radio 5-6 metri Ma comunque l'abbiamo fatta bella dentro eh, ora che parto di tutto, l'abbiamo fatta bella minchia Porco due, guarda là, bravi, cioè non so come cazzo ci facevano a capire i piani e tutte le cose Guarda, io non sono uscito a completarla, ma con Cinghio avevamo... Sei a Vibor no? Che c'è il capannone Ecco, avevamo fatto tutto il perimetro di tre piani all'interno Che se tu entravi, ok, c'era tutto il perimetro Erivo obbligato a fare tutto il giro tuo No, ma a parte quello, se tu entravi non ti potevi nascondere Perché io ti potevo sparare da ogni lato praticamente Hic Avevamo fatto tutte finestre di Ufa che percorreva all'interno Tu entravi, andavi nell'angolo di sinistra e io andavo nell'angolo di destra e ti sparavo dall'altro D'accordo Tu metti che riuscivi a conquistare il primo settore, qual'è il problema? C'era un altro piano D'accordo Un altro piano ancora e poi si andava sul tetto E' figa così anche questa Sì, però è un po' troppo confusionaria Cioè, si è un po' tutto sbattuto lì, capito? C'è cose che entrano dentro cose Per me, per me stai aprendo la cassaforte ricca Eh, speriamo Dico che è questa Ci giochi i coglioni Io vado al centro, sono indiano queste cose C'ho l'intuito degli indiani Sì, anche perché tutte sono aperte No, ce le due Infatti, dico, quelle chiuse devono contenere qualcosa di raro Ma questa qua era abboscata di brutto Per arrivare qua devi tirare giù ti crea cose E la bandiera stava qua, hai capito? Stava tra il bagno e il dittorio Ahia Quindi, secondo me, è proprio qua Hai capito? Io pure le scatole li porto via Già, li ci montellano tutto Affanculo, va Niente, ci vuoi rimanere Devo quinta pure loro, diciamo Stai sempre in mano, non ho il tablet, sì? Sì, sì Puoi anche spostare Basta che stai nel raggio di 5 metri Non è che devi stare attaccato, che vi do Sì, ma siccome ho paura di sto gioco Che è buggato con la merda a volte Poi chiamo l'hazmin, forco Dio Stavo glitchando Eeeh, c'è niente Eeeh, c'è niente Ragazzi, veramente Perché se no mi bannano Cioè, portate via la mia airgate Spaccate tutto Fate pensare che abbiamo raidato con C4 Ok Ok Vai, è andata È andata, fratmo Che c'è, che c'è? Perché non l'apre? Eh, si bugga a volte Guarda di te, Robby Guardo io Però esce un po' un attimo Va Tranquilli che io non mi servono i soldi Non me lo fa neanche a me Eh, dovete riloggarlo ora Perché Perché non l'apaccia il nostro problema? Dopo gli hackeraggi Te la fa vedere sempre chiusa Non te la... Cioè, devi riloggar per vedere la... Per la fila Eh, niente Allora, lì lo chiamo Cazzo, lo dico Che devi fa? È un po' da rietta, cazzo Puttana, io, è passata Meno male Sto morendo Raga, io le munizioni sto a fare uno a uno Ma non c'è un modo per Magari se ci sono le due o tre portate, no? No, devi fare a... A... A quadratino Cioè, come stai facendo? Trascino Ma se fai doppio click Ragazzi, sì Ma chi me le portavo con doppio click? Però porti i baggi A me dei soldi Io non me ne fotto un cazzo Mi interessa solo Caricatori Dei caricatori strani, capito? Cazzo dei Sears Sai quello del Tech? Sì, sì Io sono ancora l'armatura Ma va, va, va Che cazzo me ne fregati et Ah, abbiamo preso poco Vieni, vieni a vedere, vieni Dici che li prendo Eh, chi è a casa l'ho slucchettato? Li prendo o si sono? Sì, sono pochi Prese Sono 160 mi pare Qui c'è un'altra Un'altra chiusa, eh? Avete trovata una batteria per caso? O la devo portare? No La devi portare perché non l'ho trovata Chi è che sta agrando fuori? Non lo so, anche io ho sentito Brutta cosa questa Io sono il base mio ancora Beh, comunque Con Di nuovo Abbassatemi un attimo, raga, tutti Ma che cazzo sta agrando Sto zombie da fuori Spero che siamo noi Spero che non lo so Speriamo Non è merda Oh mio di roba mi ha fatto Ghiaccia zango Quando ho sentito correre Eh, perché cerco Sì, a noi No, no, no Sì, a noi Vedi che ti ho passato io A grata Comunque con una batteria Fai... Ne fai uno, giusto? Mmh Allo No, c'è un altro paio Dici, posso prendermi un altro paio Giorda? Ma che cazzo devi chiedere? No, io, io, io Ah, io chiedo ragazzi Che poi magari qualcuno ne vuole Ma che io, io Ma questo era tutto Era questo Era la stanza privata Ma i cinquattomattina aveva Sibili, puttana Ah, io ne ho Uno, due, tre, quattro Bianchi o verdi? Bianchi Mmh Era tutto qui il loot Secondo voi, raga Ma mi sembra strano Eh, può essere che Sta porta qua Interpassa a prodare qua sotto Io non ho sfondato però Eh, infatti c'è qualcosa Qualcosa c'è Sì, infatti qualcosa Mi manca l'appello Eh, perché anche i caricatori Non ne hanno neanche uno C'è qua rumenda Sì, sì, è strano Manca qualcosa qui dentro No, ma che No, no C'è loro C'è una stanza segreta loro Per scenderci Fammi andare a vedere Da sotto se è aperta Forse è un doppio fondo Ma sicuramente un doppio fondo Guarda, guarda Ma no, siamo di qua? Ah, no È di qua, raga Di qua Dove c'è le casseforte Che c'è già la granattetta Cioè, non c'hanno manco colpi tanti, eh Cioè, giù O sono lì dove le casseforte chiuse Vi devo portare una botella Qui sotto c'è dell'altra roba, eh Roby Sfonda, carico Ti porto un'altra No, no, è già aperto Non c'è bisogno Ah, che roba, eh Cinque, sei cassaforti C'è un po' di roba mista Ma dove? Sotto del piano di dove eravate Quella porta lì Se fai tutto il giro è aperto Ce lo scaracca pure col caricatore Questo lo vuoi? Col caricatore accoppiato No, 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 no Io cercavo roba Tipo caricatore E i Sears E i C-Tag I Quelli Cioè, i Sears Ma quello è la tecnica Il WSKK Capito? Quindi poco più Sì Sì Però io, buttana Eva del cazzo Sono impossibile Ok Ok Ma non mi fa saltare Ho bisogno di uno di voi Subito Che hai fatto? Porca troia Ma ha glitchato qua Bisogna che mi rompete qua Subito 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 Ma non so O la scala al wall Subito Scusa se c'è che ando ad arrivare io Ma porca troia Ma che se f***a Ma perché? Ah no, niente, niente Era al blu Ok Grazie Stati andando all'auto? Come si comporta? Oh, ma questa è stata Al contrario E' stata montata Ma c'è un modo per cascarci Da dentro Guarda come l'hanno chiusa Hanno fatto un macello Sti mongoloidi Bisogna cascarci dal cielo Per forza Perché da dietro A meno che non... No, no, ce la fai da dietro Sì, ce la fai? Eh, no, è stata sotto Qua c'è un'altra cosa qua di fianco Dovete rompere anche questa Capito? Guarda, guarda Che bastardi Venite qua Venite qua Ho fatto una finta Un finto muro Dovete rompere qua Io vado a posare qualcosa Perché sono pieno Anch'io adesso E' altro di caricatori Quelli che ho trovato Oh, venite qua Arriva Che bastardi Vedi che so Nella mignotta Se non te ne accorgi Ti inculano Magari è qua la roba Hai capito? Per quello non la stiamo trovando Mmm Sì, perché qui Il basone che è E' poco da questa roba Eh, troppo poco Se venite fuori Di qua Vi faccio vedere Io vado in parte E poso Le minchiate qua Puglio una batteria E torno Che spè Vale Se te vicino a Roby Puoi tagli una mano Un attimo No, aspettate Per farvi vedere Ecco dove dovete rompere Ah, ma non sei in base Allora E' proprio